La presentazione di questo bel caffè che è arrivato questa mattina in torrefazione. Questo è un bellissimo caffè, buonissimo, che ci abbiamo messo tantissimo. È tuttoissimo questo caffè. È tuttoissimo. Ma cos'ha di eccellente, di speciale? Perché facciamo questa festa che è arrivato questo caffè oggi a Monte Cerignone? Perché facciamo sta festa? È master? Dimo, perché festeggiamo così? Cosa è successo? Eh, perché questo è il primo caffè che abbiamo preso direttamente dai contadini. Ci abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo sofferto tanto a camminare con i piedi fino alla cooperativa Coccano. No, è un buono, buono. Sono contentissimo. Quindi possiamo dire che il nostro progetto è andato a buon fine dopo tanti sacrifici. Quanto ce n'è ancora sul camion là? Sì. È il primo bancale con filoso. Andiamo a vedere il camion. Il nostro camion. Allora, è svuotato tutto? No. Ah, ne è rimasto poco. Ciao mister. Questo è il caffè più buono del mondo, lo sai? Mi ha messo i sacchi personalizzati. Come si sono stati fatti? No. Non parla italiano il mio amico. Documenti, documenti, candar, candar, e start. Candar, voto, documenti. C'è un offerto per avere questi sacchi. Come. Sono stati a prendere... Un momento, eh. ...con l'autobus... Rosy! Cioè, cosa sarebbe la... I documenti per lui come sono messi? Sì, prima. Ah, non lo so. Mi hanno dato una pesa prima di andare via. Sono stati con le moto a metterlo. Va bene, Riccio. Per prendere solamente i sacchi della Repubblica Lodomunicana per dare la vita. Dì, ma come mai tutti quei sacchi rotti? C'hai lavorato tanto, i sacchi buoni non li rimediavi? Erano buoni e che dopo un anno che aspettiamo il caffè sono un po' distrutti. Dai. Ok, saluto a tutti. Bravo.